Temperatura dell'aria oggi in Lombardia a 2 gradi, fa abbastanza freddo, questi sono i collettori solari ad aria calda che mi sono autocostruito, li sto alimentando con del fotovoltaico, è tutto assolutamente provvisorio, sto lavorando una versione migliore, temperatura interna dei collettori 60 gradi e 9, molto bene, un po' troppo alta, ci devo lavorare, questo è un tubo con cui convoglio l'aria calda provvisoriamente in casa. Sono in casa, ecco che mi sta sputando dentro l'aria calda una temperatura di 45,4 gradi centigradi, sono le 14 del pomeriggio, molto bene.